Improvvisamente vedi accanto a me un bambino. Mi sembrava di riconoscerlo, ma non riusciva a identificarlo. Indossavo un cappotto troppo grande per lui e un berretto che gli cadeva sugli occhi. Pian piano capì che quel bambino era stefus, un mio amico. Lui mi sorriso e avrei voluto tanto ricambiare, ma anche questo era proibito. Malgrado tutto mi sentivo lo stesso felice perché mi resi conto di avere ancora un amico. Purtroppo fu una felicità di breve durata, perché poco dopo stefus non c'era più. Aveva visto trascinare sua madre su un autocarro e si mise a correre verso di lei, ma il colpo non tardò a partire. Cadde a terra, in una pozza di sangue vivo, sangue tenero. Era stato ucciso.